E' la serata che, diciamo, viene dopo quello che abbiamo visto ieri a Piazza del Duomo a Milano. Aspettate che levo la maschera, tanto vicino, è stata in lontana. Ieri abbiamo visto come giustamente 30.000 persone hanno esultato e festeggiato per uno scudetto senza che nessuno, naturalmente, dicesse una virgola. E questa sera siamo tutti interisti. L'unica differenza è che qui ci sono 30 ristoratori invece di 30.000 interisti ed evidentemente il dispiegamento di forze dell'ordine è proprio perché ci sono i ristoratori e non ci sono i tifosi. Evidentemente, come abbiamo detto da ieri subito, lo Stato è forte con i deboli e debole con i forti e lo Stato continua a mentire su quella che è una situazione della pandemia che ormai è da 14 mesi sotto gli occhi di tutti e che soprattutto attraverso un'operazione verità noi stiamo cominciando a portare all'attenzione dell'opinione pubblica perché spesso quando si vuole nascondere la verità, la verità si deve mettere sotto gli occhi di tutti e la verità è scritta nel sito Epicentro che è il portale dell'Istituto Superiore di Sanità portale attraverso il quale tutti i giorni c'è la conferenza stampa famosa dove vengono dati i nuovi contagi, i nuovi positivi i guariti, i deceduti e così via. A tutti gli amici della stampa dopo fornirò questo PDF che abbiamo elaborato proprio da questi dati presi dal sito Epicentro e i dati del sito Epicentro ci fanno capire una situazione incontrovertibile, innegabile cioè che il tasso di incidenza sulla letalità e la mortalità degli under 60 è minore di quello che c'è stato nel 2019 per una semplice influenza che nel 2019 ha colpito gli italiani non lo dice un sito internet complottista lo dice il sito dell'Istituto Superiore di Sanità quindi se il tasso di letalità e di mortalità ha una forte incidenza sopra ai 60 anni non capiamo perché c'è continuo accadimento nei confronti dei ristoranti dei bar che sono stati spaccati a metà come categoria facendo lavorare soltanto chi ha i tavoli all'aperto e non facendo lavorare chi ha i tavoli al chiuso non facendo lavorare chi vive di turismo perché i turisti naturalmente con questa incertezza non verranno a Roma nel breve non facendo lavorare chi ancora oggi vede gli uffici che stanno sopra le proprie vetrine con i dipendenti, i smart working e quindi sono chiusi il 50% di 350.000 aziende si fa presto a calcolare quant'è e si fa presto a calcolare quanti sono i lavoratori e i collaboratori che lavorano là dentro e si fa presto a calcolare l'indotto si fa presto a calcolare tutti i fornitori e tutto quello che gira intorno a questa attività però evidentemente siccome nella prima parte della pandemia e questo mi assumo la responsabilità di quello che dico c'è chi ha sbagliato nel gestire la pandemia e ancora oggi sta al governo e continua a sbagliare coprendo gli errori della prima parte proseguendo con gli stessi errori per non dover chiedere scusa agli italiani e soprattutto di non dover si assumere la responsabilità di star facendo fallire migliaia di aziende e quindi Grazie.